Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Pandora Vi invito a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi un like Allora, iniziamo subito Finalmente vediamo quali sono stati gli ultimi acquisti Sono un po' old style Non sono nuove collezioni Perché sono andata alla ricerca di cose che Secondo me stanno bene appunto nei miei bracciali E andavano a completare un pochino Quella che era la mia collezione attuale E sono andata alla ricerca di questa murrina L'ho trovata presso una gioielleria Questa murrina che già vedrete anche in un video in futuro Ma che io ho già girato però non vi faccio vedere in futuro Ed è la murrina natalizia E vedete ha il fiore Con i pallini rossi È bellissimo Con tutti e tutti questi dettagli colorati Di qua non c'è nessun marchio Invece di qua avete il codice Nel marchio Pandora Ne avevo già acquistata una Quindi questa va a fare la coppia con l'altra Del bracciale che sto ideando Sto immaginando Sto creando Per il prossimo inverno Il prossimo Natale Ancora Non è meno il bracciale Ma penso già ai charm Quindi il bracciale verrà dopo E quindi questo è uno Poi ho preso Questo è un altro tema Un charm che è fine produzione Ormai fuori produzione Ed è quello Diciamo glamour Con il rossetto Il cuoricino Con scritto kiss Di qua è tempestato Di zirconcini È stupendo Fa un sacco Un sacco Di luminosità Io avevo già anche Il pendente Con Sempre della linea glamour E quindi Sono andata a fare la coppietta Poi Sempre all style Io cercavo qualcosa Sempre a tema marino E ho trovato Negli old style Il granchettino Ma è stupendo Meraviglioso Questo granchettino Qui sotto C'è la O Ancora il vecchio simbolo O di Pandora Qui Sembra che Il granchio Abbia Tra le chele Una piccola perla E questa perla È dorata Infatti In bitono Dietro È tutto contornato Appunto di pallini Che gli da Diciamo Definisce il corpo Del granchio E qui piccolini Minuscoli Ci sono due cuoricini Il codice Qua Scritto molto piccolo E sotto Si intravede Appunto la perla Ancora con le chele Ma è bellissimo Poi guardate il faccino Gli animaletti Che facevano una volta Secondo me Erano proprio carini Forse addirittura Più belli Rispetto a quelli Attuali Ultima cosa Che ho preso Sempre in oreficeria E devo dire Che qua Mi sono buttato Proprio Sulle cose Che non sarei riuscito A trovare Né online Né Dallo store Perché ormai Praticamente Sono esaurite Ossia la fortuna Di trovarle Magari presso Qualche gruppo Che si occupa Della vendita Di questi Gioielli Ed è L'anello Con la mia Pietra Io sono I pesci Quindi questa Era La pietra Acquamarina E va a completare La mia Collezione Di questi Annellini Così Questa è molto bella Specialmente d'estate Fa anche Abbastanza figura Guardate La pietra Come Iridescente E quindi Abbiamo terminato Anche per questa volta E Mi sono rifatta Un po' Anche perché All'orificeria Avevano gli sconti Perché io Questi gioiellini Qui in orificeria Li ho pagati Molto meno Con un prezzo speciale Negli sconti speciali Essendo poi Fide produzione Proprio per questo Mi hanno Ribassati E poi Ne ho approfittato Perché alcuni Di questi Tipo Quello che ho preso Nel vecchio video Col pesciolino Quello con il mare Non ce l'aveva più L'orefice E Mentre Prima Del Della primavera Li aveva ancora Quindi Sono andati a ruba In questi Ultimi Giorni E Hanno aspettato Tutti che riappressero I negozi Per andarti a prendere Quindi Questo è il Tris Più Anillino E Sono contentissima Sì Come sempre Del resto Ogni volta Bene Ci vediamo Allora In un prossimo Video I video Che vedrete D'ora in poi Sono video Un po' vecchi Ma Comunque Gli acquisti Erano stati fatti Online Oppure Prima Del periodo Della Pandemia Ad ogni modo Sono ancora Con charms Attuali Per cui Forse più attuali Di questi Addirittura Ci vediamo Allora Nel prossimo Video State sempre Collegati Mi raccomando Iscrivetevi Non perdetevi I prossimi Ciao